Aspetta, ci sono dei piatti di carne, 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 un secondo, vai Liliana, vai, 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 è dietro Zugno. No, no, anche quella di qua. Si, si. Mi sei tolare? Ok, si. Tu li senti? Ma ti bocchierò la di? Ma in ordine... Si, ti bocchierò una volta, ti bocchierò. No, però non ci ho contato. No, no, non giusto, una volta per me. Eh, vabbè, no, una volta puoi rifarlo. Non c'è, non c'è. Si, devi rifarlo. No, no, no! Dai, non l'ho ripreso! No, dai, una volta puoi, io voglio rifare. No, 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 no! Una volta puoi rifare. No, no! Zugna! 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 Una va rifatta. No, una va rifatta. No, una va rifatta, dai. Una per regola va rifatta. Dai, dai! Poi lo passa. Marco! È qua dietro. Dai! Ti sta appoggiando le mie staglie. Ma bene, poi mi fai tutto il perrito. poi potremmo cambiare così che hanno già spuntato no, no, non vado allora eh, dovevi aspettare la rifinezione dai, ma che spalle dai, dai, dai e allora, non mi vuoi andare così non lo vuoi fare mi sembra una ragazza sexy ah, ho sbagliato a spuntare secondo me sono cazzi, perché c'è il suo dubbio io, io ho dato tutto